10 minuti alla partenza della Bobbio Vertical siamo giunti alla quarta edizione di questa gara che nel 2014 è stata vinta da Carlo Ratti e Chiara Fumagalli l'anno successivo nel 2015 a imporsi furono Fabio Pazzana e Serena Vittori poi ancora Daniel Andoroni e Serena Vittori a incidere il loro nome nell'albo d'oro il best time musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.